Alfredo Carputo appoggia Renzi alle prossime primarie. Sappiamo che a quarto esiste un comitato pro Renzi. Perché votare per Renzi e non per Bersani, il principale competitor? Diciamo che dal primo momento che mi è stata proposta questa cosa, insieme a un gruppo di giovani, abbiamo deciso di affiancare e di portare avanti questo progetto perché secondo me Renzi è l'unico elemento di discordanza in questo scenario politico che si sta delineando. Renzi ha reso partecipi tanti tanti giovani tra le proposte che noi abbiamo anche valutato come associazione varie perché è un giovane che ha già mostrato le sue capacità come sindaco di Firenze e poi secondo me è una persona che si distacca dal vecchio politico ed è pronto veramente ai cambiamenti come riforme e come proposte nuove. In che cosa si distacca in particolar modo dal programma di Bersani? Diciamo che lui ha puntato molto sul coinvolgimento reale e vivo delle persone che lo affiancano, ha cercato di creare uno staff valido e insieme facendo un discorso di partecipazione attiva ha costruito questo che fino a ora si può definire un'iniziativa giovanile assolutamente. Perché comunque è da apprezzare un giovane che è arrivato già a questi livelli, si può dire soprattutto da solo con un gruppo che ha creato lui. Ha fatto molto piacere a me soprattutto perché ho riscontrato che nei giovani c'è uno spirito di allontanamento dalla politica e questo secondo me non va assolutamente bene. Perché soprattutto noi giovani che viviamo i problemi e li vivremo da qui a quando diventeremo grandi e cercheremo un lavoro per chi non ce l'ha ancora eccetera eccetera è l'unico che ci può dare una speranza reale perché ci può affiancare e sostenere in questo percorso. Che risultato vi aspettate? Come risultato diciamo che noi siamo partiti da un coinvolgimento e quindi non abbiamo obiettivi precisi. L'importante per me è dare il massimo e impegnarsi. I risultati arriveranno sicuramente perché ogni volta una persona o un gruppo si impegna in qualche cosa l'obiettivo si raggiunge. Quindi su questo non ci sono problemi assolutamente. E a chi dice che la vittoria di Renzi sia fantapolitica cosa rispondete? Che ogni tanto fa bene anche credere nei sogni. Che ogni tanto fa bene anche credere.